Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Claudia, questo è Credittimamente e oggi in questa nuova puntata realizzeremo insieme questa O-Bag. Sono veramente molto felice di come è risultata, anche perché sembra un'imitazione veramente degna del suo nome, con i manici appunto proprio quelli dello bag che si avvitano e tutto quanto, una lavorazione a maglia bassa perché risulti il più semplice possibile e poi l'abbiamo abbellita con questo bordino di ecopelliccia color nero. Io spero appunto che questo progetto vi piaccia, fatemelo sapere nei commenti, se provate a realizzare la vostra O-Bag mandatemi le foto sulla pagina Facebook, vi lascio il link in descrizione, ma novità, novità che non ho ancora assolutamente detto, è che abbiamo creato un gruppo che si chiama Mari e le amiche uncinettine, vi lascio sempre il link in descrizione, dove appunto condividiamo le nostre creazioni, schemi, consigli, tutorial con tutti i membri del gruppo, quindi se foste interessati mi raccomando iscrivetevi anche a questo gruppo per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma soprattutto per scambiarsi consigli e vedere le foto di quello che ognuno realizza, che è sempre molto molto bello e si vedono cose anche veramente belle da cui prendere spunto, quindi spero appunto che vi iscriviate e che altro dire, vi lascio il tutorial, ciao! Quello che ci occorre per realizzare questa O-Bag è innanzitutto un fondo, dei manici che sono questi qui apposta per le O-Bag e che hanno questo particolare tipo di chiusura, dello swan, io lo utilizzerò nel colore petrolio, un ago tirafettuccio, un uncinetto, io andrò a lavorare con un 3,5, vi ricordo che tutto il materiale l'ho trovato in vendita sul sito www.merceriamari.it. Come prima cosa, quindi mettiamo il fondo al rovescio, come sempre, e dobbiamo partire e inserirci nei vari fori. Io generalmente parto sempre con due punti di maglia bassa all'interno di ogni foro, quindi vedete, mi sono inserita nel primo foro e adesso vado a fare la mia prima maglia bassa, in questo modo. Dopodiché mi inserisco nuovamente nel primo foro, nello stesso foro in cui già ci sono passata e faccio un altro punto, anche perché io sto lavorando con un cordino swan piccolino, quindi non molto grande e ho l'assoluta necessità di avere almeno due punti per ogni foro del mio fondo. Quindi adesso mi sposto nel foro successivo, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa, entro nuovamente nello stesso foro e di nuovo faccio un'altra maglia bassa. Mi sposto nel foro successivo, tiro il filo e faccio una maglia bassa. Di nuovo stessa cosa, mi infilo di nuovo nello stesso foro in modo che vedete che per ogni foro si deve creare nella parte del dritto della nostra borsa queste V. Quindi due maglie basse, entro due volte nello stesso foro facendo due maglie basse e proseguo così per tutti i fori del mio fondo. Io non ho scelto un fondo molto largo perché nonostante voglio fare una bag non la voglio fare esageratamente grossa, però appunto dipende voi da quello che scegliete e invece potete farla anche molto più ampia di quello che andrò a farlo io. Quindi adesso semplicemente entriamo due volte in ogni foro e andiamo a realizzare una maglia bassa. Così per tutti i fori del nostro fondo. Terminato anche questo primissimo giro dobbiamo voltare innanzitutto il lavoro in questo modo e per ogni punto sottostante dobbiamo andare a fare una maglia bassa. strane che nella curva dove andremo ad aumentare. Io generalmente quando faccio le borse aumento nei tre punti della curva però con questo filato e in combinazione con questo fondo mi ritrovo con tantissimi punti quindi andrò proprio solo ad aumentare in un punto solo che è questo qui. Però in base anche a come siete voi e se il vostro fondo vi sembra che tiri e che i punti siano troppo pochi mi raccomando aumentate qui sugli angoli. Io andrò a fare solo un aumento per ogni angolo. Però appunto ripeto generalmente ne faccio tre. Quindi vedete un po' voi anche come siete messi. E per ogni punto quindi abbiamo detto che andiamo a fare una maglia bassa perché tutta la nostra borsa si lavorerà a maglia bassa anche perché le o-bag non sono molto elaborate e quindi non andiamo a fare punti particolari. faremo una lavorazione un po' un po' un po' basica appunto a maglia bassa. Tutta a maglia bassa. Vedete io adesso sono qui dove ho deciso di fare un aumento quindi nello stesso punto rientro e faccio un'altra maglia bassa. In questo modo ho il mio primo aumento nel primo angolo. Dopodiché continuo a lavorare una maglia bassa per ogni punto. così e proseguo per tutto questo giro ricordandomi sempre di aumentare negli angoli. Una volta terminato anche questo primo giro di maglia bassa adesso per questo giro e per tutti i seguenti andremo a fare una maglia bassa per ogni punto. Girando a spirale semplicemente andremo a fare una maglia bassa quindi anche una lavorazione un po' monotona ma dobbiamo crescere e lavorare tanti giri fino a quando dovremo lasciare poi l'insenatura per inserire i nostri manici. Quindi adesso io vado avanti e vi faccio sapere quanti giri ho fatto prima di attaccare i manici e di fare appunto il foro dove puoi andarli ad inserire. Guardate ho realizzato 37 giri di maglia bassa e ho la base diciamo della mia O-Bag adesso infatti dobbiamo andare a fare un giro dove lasciamo i fori per inserire poi i manici. Quindi adesso non è ancora finita perché adesso dobbiamo ancora fare una serie di giri che ci permettono sia di inserire i manici sia il giro diciamo che c'è sopra perché come saprete le O-Bag i manici non sono inseriti su in cima ma un po' più in basso. Quindi adesso andremo appunto a fare quello. Allora per prima cosa io con degli spilli vado a segnarmi la posizione esatta di dove voglio andare a fissare i manici. Quindi mettiamo il caso che io li voglia fissare qua. così e così con lo spillo vado a inserirmi qui che è dove voglio che appoggi questa parte qua del manico no? e poi segno con un altro spillo dove finisce questa parte. nel mio caso qui quindi vedete che con gli spilli ho delimitato l'esatta area che occupa questo spezzettino qui che è infatti lo spazio dove noi dovremo andare a lasciare il diciamo buco per poi inserirlo all'interno. quindi adesso facciamo questo dall'altra parte la stessa cosa infissiamo gli spilli dall'altra parte e poi per l'altro lato anche la stessa identica cosa in modo che adesso quando andremo a fare un ennesimo giro di maglia bassa sappiamo che qui dovremo fare un archetto e lasciare del vuoto. la stessa cosa di nuovo per qui e per l'altro lato. quindi una volta che ho posizionato tutti gli spilli da entrambi i lati di dove andrò a posizionare il mio manico mi raccomando la misura che dovete prenderlo lo ripeto è quella di questo spessore non di tutto il manico ma solo di questa parte qui all'interno che dovremo andare a inserire nella borsa dopodiché riprendiamo il nostro giro a maglia bassa fino a quando non arriviamo qui dove ho posizionato appunto questi spilli. quando sono qui cosa devo fare dobbiamo andare a fare un archetto di catenelle e saltare diciamo questo spazio quindi ho calcolato che ci vogliono sette catenelle tre quattro cinque sei dopodiché vedete proprio saltiamo andiamo nella maglia bassa dopo il secondo spillo che abbiamo inserito e andiamo a lavorare un'altra maglia bassa. e vedete che adesso qui possiamo anche togliere gli spilli si è formato questa piccola asolina. se non state usando i manici dello bag ovvero questi qua che hanno questo meccanismo non dovete fare questo procedimento perché sicuramente i manici non saranno ad incastro ma andranno cuciti o comunque fissati in un altro modo quindi se non avete questi manici questo passaggio voi non dovete farlo però se invece acquistate proprio questi manici specifici questo è il procedimento corretto quindi bisogna lasciare questa asolina adesso poi provate anche voi in base al tipo di manici che avete che avete se effettivamente qua dentro ci passa io ho provato prima e funziona della misura esatta quindi provate anche voi a inserirlo all'interno di questo foro e vedere se se combacia oppure no quindi adesso dovremo andare a fare un giro di maglia bassa fino a quando non arriveremo qui all'altro spillo facciamo le sette catenelle e lasciamo di nuovo l'altro foro di nuovo lavoriamo le maglie basse fino ad arrivare nella parte dietro qui faremo di nuovo l'archetto, maglie basse, archetto e continuiamo così per tutto il giro una volta realizzato diciamo tutti e quattro i nostri asoline per poi inserire i manici continuiamo a girare attorno lavorando anche sopra qui vedete come ho fatto in questo modo sopra il nostro archetto facendo le maglie basse continuiamo così per un'altra serie di giri almeno 6 o 7 giri ancora vedete quindi questo è quello dove sopra ho già fatto le maglie basse invece questo è quello dove devo ancora farle quindi continuiamo appunto a girare la spirale attorno alla nostra borsa ancora per un po' di giri guardate sopra le mie asole sono andate ancora a lavorare 1, 2, 3, 4 giri di maglia bassa e la mia borsa io direi che è terminata poi vedete voi se volete farla più alta, più bassa comunque ho già una borsa bella grande e io ritengo che queste siano le misure diciamo per me ottimali dopodiché adesso ho deciso di andare ad abbellirla con un inserto in ecopelliccia tutto qua attorno quindi questa ecopelliccia la vendono a metro io ne ho preso giusto la misura della circonferenza della mia borsa e l'ho cucita assieme da dietro vedete in questo modo e gli ho fatto anche i fori qui che corrispondono a questi fori qui perché adesso attraverso questi dovremmo andare a posizionare i nostri manici quindi io appunto adesso andrò a inserire il mio bordino qua sopra e a fissare i manici che vi faccio vedere appunto come si dovranno fissare poi lo giro in modo che i fori corrispondano qui così e voilà quindi questo è il bordino che io andrò ad applicare sopra la mia borsa a me è venuta molto rigida perché come ben sapete le bag devono stare molto in forma a me appunto ho lavorato con un 102,5 ho infilato uno swan minimum che era un po' più piccolo del solito quindi appunto la lavorazione è venuta bella rigida la borsa sta in forma da sola e io ho deciso di non applicarci la rete all'interno se no ho visto che anche altre persone invece per ottenere la rigidità massima consigliano di inserire la rete all'interno andandola a unire in cima alla borsa appunto bassissimo e giù in basso cucendola con l'ago tirafettuccia io appunto dato il risultato di come mi è uscita questa borsa non ritengo questa operazione fondamentale e non andrò a farla però se a voi la lavorazione è venuta più morbida perché avevate un altro tipo di filato perché tirate un po' di meno eccetera eccetera vi consiglio comunque di andare a fissare la rete perché le opeg è necessario che restino il più rigido possibile dopodiché il bordo di pellicce di fatto all'uncinetto fatto in altri modi è a vostra libera scelta e adesso però vi faccio vedere appunto come applicare questi manici particolari che è l'ultima cosa che ci manca per terminare lo bag quindi guardate prendiamo i nostri manici li giriamo dalla parte da dietro e andiamo a svitare questa parte che hanno qua in questo modo togliendo il cappuccio dopodiché andiamo a cercare di fare entrare questa parte qui nel foro che io ho fatto sia nella pelliccia quindi ne passiamo uno per volta eccolo qua sono fuoriuscita dalla mia pelliccia e adesso cercherò di farlo passare ancora anche attraverso la borsa così poi vedete che sono fuoriuscita prendo il mio tappo e vado di nuovo ad avvitarlo stringendo il più possibile così voilà e ripeto la stessa operazione dall'altra parte con l'altro manico ecco qui come potete vedere ho terminato di attaccare i manici e adesso ecco che anche questo bag questo progetto è giunto al termine come ultimissima cosa io andrò a realizzare una fodera con chiusura a cerniera creando una tasca proprio come hanno le o-bag originali e poi andandola a inserire all'interno quindi questo è come io la fodererò e chiuderò però anche qua la scelta è vostra potete anche lasciarla aperta potete chiuderla con le calamite potete anche voi mettere la cerniera tutto come preferite come meglio riuscite e nel metodo che ognuno è più abituato e si trova più comodo quindi questo è quanto questo progetto è giunto al termine se vi è piaciuto lasciatemi un like e scrivetemi nei commenti vi ricordo che il materiale anche il bordino in ecopelliccia che prima non ho elencato lo trovate sul sito www.merceriamare.it un bacio enorme e ci sentiamo al prossimo video ciao ragazzi